Bentornati, bentorati carissimi amici dell'Eccelso in questo unissimo videace del giorno dopo Pagellazzi, punto di domanda? No, i Pagellazzi sono una cosa fatta solitamente per darvi delle opinioni personali in più su... E' mattina presto, mi sono appena svegliato quindi sono un po' incoglionito Diciamo sono un qualcosa fatto per dirvi un qualcosa in più su delle prestazioni nella media O delle prestazioni che vanno approfondite in modo particolare perché positive Non voglio affossare squadra, non voglio affossare giocatori in generale Farò un'analisi generale senza voler dare voti appositamente Della situazione, come uscirne, anche se già ne abbiamo anticipato ieri Stasera registrerò un video con il buon Nicolone Desi E vedremo di fare un po' anche il punto della situazione con lui Giocatore per giocatore, cercando di capire un altro tifoso come la pensa sulla situazione attuale Io sinceramente sono abbastanza preoccupato Cioè sono preoccupato da più cose La prima delle cose è che le altre squadre, con le squadre più forti Sono riusciti in un modo o nell'altro a impensierirle Il Cagliari si trova purtroppo in una situazione di enorme impotenza Quando sfida queste altre squadre Cioè l'abbiamo visto, Atalanta, Inter, Milan Sono state partite di grande impotenza L'altra cosa negativa, collegandomi a questa Che nonostante questa evidente impotenza C'è secondo me sempre l'aspetto dei tifosi Che purtroppo influenza questo ambiente mediocre che si crea a Cagliari Cioè perché dobbiamo essere consapevoli che c'è una squadra che ha grossi limiti Questo assolutamente sì E questo chi sapeva analizzare il mercato già lo sapeva come sottoscritto Il problema sono questi tifosi Anche questa parte di tifoseria Che anche dopo la partita di ieri parla di grandi prestazioni Parla di una squadra assolutamente sul pezzo A me non sembra così purtroppo Io vorrei che ci fosse una squadra sul pezzo Vorrei che ci fosse una squadra pronta a reagire Vorrei che ci fosse una squadra che non prende due gol in cinque minuti Dopo l'error a Cerradunovic Cioè è una squadra veramente slegata a livello di rapporti umani mi sembra E questo è un punto molto grave Cioè ma è slegata perché? Punto di domanda Perché comunque è una squadra Ve lo ripeto Che ha delle problematiche linguistiche Ieri è diventato un meme Lo mando avanti Hashtag problematiche linguistiche Quello sotto nei commenti Però ci sono problematiche linguistiche Ci sono enormi problematiche linguistiche Negli undici di ieri Cioè se voi andate a vedervi gli undici di ieri Andatevi a controllare Ma questi ragazzi come cazzo comunicano? Cioè come è che si parlano velocemente per dire Devi prendere quello, devi fare questo, devi fare di qua Poi per carità Magari c'erano i loro metodi Le loro parole in codice Le loro... Non lo so Ma capite che è un disagio enorme Tolto il fatto che comunque Se tu prendi gente che parla tutte lingue diverse Che la lingua comune non la parla Perché comunque i due ragazzi a cui hanno fatto l'intervista Parlano un inglese da intervista prescritta Che si sono studiati Ma non parlano inglese Cioè il parlare inglese è un'altra cosa Ok? Il parlare inglese è un'altra cosa Non è che mettere due parole di fila vuol dire parlare inglese Punto primo Posto che tra gli italiani della squadra Non so chi parla inglese Questo è un altro... Questo è un altro bel punto da approfondire Vedere se Dossena parla inglese E poi è chiaro che i rapporti umani Tra gente che parla lingue diverse E la lingua comune non la parla O la parla male Non si creano Ma non si creano Ma è così È così Cioè è così È così E questa è una problematica enorme Perché al di là della pochezza tecnica Di questa squadra Che però ripeto Se questi due difensori centrali Non dovessero rivelarsi dei flop Che attualmente sinceramente Mi stanno sembrando Per le cifre spese Ma se loro non dovessero rivelarsi dei flop Ma dovessero stare alle aspettative Secondo me questa squadra Nella... Dal centrocampo in giro Non è una squadra da ultimo posto Non è una squadra da retrocessione Cioè lo riconfermo Come avevo riconfermato pre-campionato Davanti lasciamo perdere Cioè... Ma proprio come creazione di gioco dico Un trequartista qualcosa Lì probabilmente anche Ragnari deve cambiare modulo Manca proprio un pezzo importante lì davanti Magari non è neanche da retrocessione Ma si vede che non c'è un'amalgama Tra questi giocatori Non c'è personalità di squadra Gente che va a fare la rissa Luvumbo che si spacca con tutti Fa le risse Gli vanno ad urlare in faccia A fare così E nessuno che lo va a supportare Ma ci vogliamo svegliare Ma ci vogliamo svegliare di squadra Ma giocate in squadra con Luvumbo O giocate contro Luvumbo Cioè ma se Luvumbo Perché è fumantino Perché si sente preso a calci di continuo Ha una reazione Va a fare la sceneggiata Ma vogliamo andare a separare la cosa O a rincarare la dose A farle cinghialate Cioè da queste cose si evince Già se c'è una squadra Non c'è una squadra Non c'è una squadra Per quanto riguarda poi sempre l'aspetto tifosi Ci sono una serie di altre problematiche Cioè io contro il Torino Mi ero permesso di dire Che secondo me Vista la condizione fisica del Torino E vista la situazione Era una partita che il Cagliari Doveva puntare a vincere in quel momento Perché erano poi punti importanti Che ti portavi dietro Non che vincere in trasferta col Torino Sia una cosa scontata Ok? Non che sia una cosa scontata Ma se la partita si mette in un certo modo Tu ne devi approfittare Perché poi nessuno ti regala niente Nessuno ti regala niente Andatevi a rivedere i commenti Sotto la partita contro il Torino E ma come fai ad essere così severo E ma non capisci niente E ma il Torino è di un'altra categoria Cioè allora qua tutte le squadre Sono di un'altra categoria E questa squadra non è capace Di battere nessuna squadra praticamente Anche l'Udinese era una squadra di un'altra categoria Cioè ragazzi L'Udinese è una squadra imbarazzante Ridicola Lo sta confermando in queste partite E il Cagliari in casa Non è stato in grado di vincerci Cioè ripeto A voi le considerazioni sulla cosa A voi le considerazioni sulla cosa A voi le considerazioni sulla cosa Quindi prima di andare a fare A fare introspezione da altre parti Facciamole dentro noi stessi L'introspezione Nella vita siete dei vincenti O dei mediocri Ok? Passate proprio alla vostra vita Volete essere dei vincenti O dei mediocri Se volete essere dei mediocri I discorsi da fare Sono quelli che sono stati fatti Sino ad adesso Se volete essere dei vincenti I discorsi sono quelli che vengono fatti Su questo canale Mi dispiace Ma non perché io sia un vincente nella vita Anzi Dopo una partita di terza categoria Che abbiamo fatto Però voglio dire L'attitudine deve essere quella L'attitudine deve essere quella Ok? L'attitudine deve essere quella Poi i risultati Vabbè Ma l'intenzione deve essere quella Di essere vincenti Non partire con Ah loro sono troppo forti Ma che attitudine è? Ma allora stiamo in serie B In serie C Così siamo la più forte Contro ogni squadra La gente può aggredire E fare Aggiungo altre cose Allora Una cosa positiva della situazione È che avendo ragneri Gli giocatori non hanno alibi Cioè i giocatori Devono dare tutto E devono cercare di dare tutto Perché la piazza Diciamo A prendersela in modo pesante Con Ragnieri Non ce la farà Ma perché Cioè io ora Lungi da me Ripeto Di nuovo per l'ennesima volta Per i depensanti analfabeti Non ce l'ho Con Ragnieri Ok? Non ce l'ho con Ragnieri Ah tra l'altro Mi viene in mente così Chissà qui i pagliacci di Twitter Se alla fine dopo queste prime Sei partite Cosa pensano Del mercato da dieci Che è stato fatto Quei bagliazzi di Twitter Quei bagliazzi di Twitter Che mi dicevano Che io Ero stupido Come che ero un deficiente A commentare Il calciomercato Cioè il calciomercato E le amichevoli Di luglio e agosto Che davano invece Un'indichiazione Già chiara Del tutto Chissà cosa stanno dicendo Quei quattro pagliacci Comunque Comunque Dicevo Mi sono incazzato Mi sono infervorato Dicevo no Perché su Ragnieri Le solite premesse Il mercato Non è valido In certi reparti Ci sono Tanti giocatori giovani Tanti giocatori Che non hanno mai Giocato a schieme Ci vuole tempo Ok? Tutte le solite cose Già dette Ridette Ridette Detto ciò Ci sono dei problemi E delle evidenze Da più partite Che mi dispiace Ma Ragnieri Non sta cogliendo Ragnieri Non sta cogliendo Ragnieri Non sta cogliendo Perché Prati Se dopo la partita Con l'Udinese Che ha fatto una grande Bellissima partita Spendi bellissime parole Non lo metti più Ed è uno che ti dà Più fraseggio Si vede Più palleggio Rispetto a Sulemane Macumbu Macumbu come sta giocando Male Vi dico la verità Io personalmente Venendo Sulemane Macumbu Se Macumbu è questo Ad oggi Macumbu si è a casa In panchina Con tutto l'affetto E tutto il bene Tutto il gaser Ed è giocatore Che ad oggi Mi dà più gaser E sensazione di gaseraggio Ma non va bene così Macumbu Non va bene Non dà palleggio Fa perdere tempi di gioco Sta tornando veramente Nei suoi meandri Strani E storti Dell'Africa Ok? Ragnieri Dispiace dirlo Ma ad oggi Di questa squadra Dove bisogna andare A Ad agire Sta capendo Purtroppo poco Sta capendo Purtroppo poco Sta capendo Purtroppo poco Perché Prati Eventualmente pure Viola Hai due registi In panchina Hai due registi In panchina Che ti possono dare Più palleggio E c'hai Oristagno Ma come si fa A tenere fuori Oristagno Ragazzi Io capisco L'assenza di cambi dopo Ma Oristagno Non può rimanere fuori In una squadra Ma come puoi fare 70 minuti Senza Oristagno È un giocatore Ha una grinta E una tecnica Messe assieme Clamorose Giocatore Secondo me È uno dei più forti Che abbiamo E lo teniamo In panchina Ma fai giocare Oristagno Buon dio Poi Che a gennaio Si dovrà operare Si dovrà fare Cose Questo Senza ombra di dubbio Si dovranno Fare molte cose A gennaio Prendere diversi Giocatori Per Per provare a salvarsi Anche perché Ripeto Ste due partite Io lo dico Già Qua oggi Iniziamo Già A prepararci Ad avere Zero punti Disfattismo Assolutamente No Assoluto Realismo 2-3-2 Con tre centrocampisti Che sono Degli interditori E un 8-2 Stiamo giocando Noi ragazzi 8-2 Stiamo giocando Quali sono I giocatori Propensi Alla costruzione Del gioco Nel Cagliari Ad offendere Quali sono Ieri Quali erano Quali erano Nessuno Poi mi dite E' mal Milan E' mal Milan Ok Ma allora Ogni squadra E' mal Udinese E' mal Bologna E' mal Torino E' mal Inter E' mal Atalanta E' mal Milan Siamo in Serie A Siamo in Serie A Il Milan E' la stessa squadra Che contro il Verona Ha vinto 1-0 In casa Rischiando E soffrendo Tutto il tempo Come dei maiali E' la stessa squadra Che non mi pare Che venga da Da un periodo rosio Anche di appoggio Dei tifosi Di massima fiducia No? Ieri Chi cazzo giocava Nel Milan? Leao Non ha giocato Non ha giocato Per 70 minuti Giroud Non ha giocato Va bene Ma vi direte Ma Oca Fuore forte Ma Pulisic è forte Ma sono tutti Forti in Serie A In Serie A sono tutti forti Allora se voi Non vi volete Adeguare a questo livello Torniamo nella mediocrità Ancora più bassa di questa Ovvero la Serie B E se non basterà La Serie B Come vi ho detto L'anno scorso Perché per fortuna Lì non leggevo Cos'è ma il Palermo E ma Però se anche lì Ci saranno squadre Troppo forti Per noi Vorrei dire Che andremo in Serie C E boom Cioè ognuno Si riavrà Quello che deve avere Aggiungo un'ultima cosa Finale Così diamo tutti i tiri Sui consigli di formazione Oristagno Prati Barra Viola E Comacumbu in panchina Se non sta bene Fisicamente o mentalmente E in difesa In difesa Se si vuole giocare a tre Posto che Ci sono certe partite In cui Puoi anche non giocarci a tre Ieri Era fondamentale Giocare a tre Senza punte da marcare No Ovviamente no Quando ci sono Giocano a due punte Due punte che vanno marcati In un certo modo Ha senso giocare a tre Contro certi tipi di squadre Se giochi a tre Goldaniga Obert Risolviamo problemi linguistici Per favore Ricreiamo un assetto Di giocatori che si conoscono Per favore Che qua ci sono state Le genialate Del 25-30 agosto Di stravolgere Attacco E difesa Mamma mia Un bacione Ciao a tutti Ciao a tutti